Che bello, wow, le bolle, ok, io non so più come puoi riformarlo ma, vabbè, cubi cubi Nel mulino che vorrei, sesso anale, sasha gray, allora fatemi abbassare l'audio, togli l'audio a noi, come togli l'audio a noi, di sanremo, è uno scherzo, ha ammesso del porno, è successo, aiuto, aiuto, ok, aiuto, Chiudete la diretta, ma chiudi, chiudi Telegram, io non ci sto prendendo, è successo, è successo, aiuto, aiuto, aiuto Top Ma volete andare a fare in culo un poco, o no? Grazie Ecco così, così, così Voglio ricordare che comunque sono dei ragazzi sardi, ciò significa che avranno sicuramente un cidone grosso così Che si vinca o che si perda, bug o merda Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti